Raga, tregua, tregua, oggi è tregua perché oggi è troppo importante Milan PSG, lasciamo da perdere le polemiche, lasciamo da perdere la rabbia della sconfitta contro l'Udinese, dobbiamo essere tutti uniti come un grande tifo per sostenere questa squadra che stasera ha bisogno di noi. Stasera è troppo importante la partita, è troppo importante il risultato perché secondo me con un risultato positivo potremmo svoltare un po' la stagione e dare quella scossa importante per fare capire alla squadra che siamo una squadra che può competere in tutte le competizioni, in caso di sconfitta secondo me succederebbe il crollo totale. Ed è per questo che sinceramente sì, di ieri di Ibrahimovic, dell'incontro Ibrahimovic-Cardinale, ok, sono contento per carità e anche del post Instagram che ha messo Ibra, TikTok, TikTok, le lancette che indicano che è vicino il suo arrivo mi fa piacere per carità, però oggi non me ne frega un cazzo, ne parleremo più in là, avremo tutto il tempo per parlarne, ma oggi mi interessa Milan-PSG perché se vanno male le cose, perché se esci dalla Champions l'arrivo di Ibra non serve più a un cazzo, serve sì forse per salvare la stagione in campionato, ok, però in Champions non servirebbe più a un cazzo. Di Donnarumma degli insulti, cioè se fino a due settimane fa Milan-PSG per me era in realtà Milan-Donnarumma perché volevo vedere l'accoglienza, perché è un mercenario, perché l'avrei insultato in tutte le maniere, oggi anche Donnarumma mi passa in secondo piano perché ripeto Milan-PSG è la cosa più importante, poi sicuramente godrò a vederlo insultato in tutte le maniere, però non ha più quella valenza che aveva fino a due settimane fa, il ritorno di Gigio Donnarumma, non me ne frega un cazzo, a me interessa che stasera il Milan torni a vincere e che si rimetta in carreggiata per quanto riguarda la qualificazione Champions, ma soprattutto che i ragazzi capiscano che per noi il Milan è importantissimo e che devono dare sempre il 100%, perché gli 11 titolari se la possono giocare con tutti, ma devono tirare fuori i coglioni, ed è per questo che è stato importante l'intervento di Lucci che dice uno degli ultrati del Milan, uno dei capi di ultrati del Milan, che dice che stasera San Siro sarà una bolgia, ma i giocatori devono rispondere sul campo a una partita indegna fatta contro l'Udinese, ma soprattutto perché dice quello che io penso e questo canale pensa da un po', da una situazione indegna che si protrae da troppo tanto tempo, noi diciamo sempre che non siamo incazzati con la squadra e Pioli, soprattutto con l'allenatore, non da due settimane, ma è da gennaio che siamo incazzati, è da gennaio che vediamo cose non da Milan, situazioni non da Milan, e quindi vogliamo una risposta sul campo stasera, perché se dovesse andare di merda, allora il problema è anche che non ci sarà più il sostegno dei tifosi, perché uscire dalla Champions è un danno pazzesco, quindi voglio un grande Milan, indipendentemente se mi piaccia o meno quello che stasera farà come scelta tecnica, tattica mister Stefano Pioli, a me interessa che il Milan dia il 100%, oggi raga non sarà una partita facile e prima di parlarne vi invito tutti a iscrivervi al canale e a lasciare un pollice in su a Benzinero, un pollice in su che è fondamentale per il video e per il canale. La partita di oggi è tosta, è tosta, non lasciamoci confondere dalla storia che in trasferta il P&G ha preso quattro gol dal Newcastle, tutto vero, perché c'è il risultato che ne parla, ma il P&G è in un processo di crescita, visto che è arrivato un allenatore nuovo, che avanza spedito, ma i giocatori sono forti, cioè Skriner, Marquinhos, Mappé, Colomouanin, Dembélé, è uno squadrone, sarà una partita tosta, però siamo in casa nostra e in casa nostra dobbiamo farci valere, come ha detto ieri Mignan, anche il Milan è forte. Il Milan non ha paura di incontrare il P&G, il Milan deve mettere il 100% in campo, deve sudare quella cazzo di maglietta, deve onorare quella maglietta, perché se tutti e undici corrono, se tutti e undici attaccano e tutti e undici difendono uniti come una squadra, il Milan può vincerla questa partita. Raga, io quello che chiedo alla squadra è di levarsi dai coglioni Stefano Pioli, se c'è qualcuno che sta remando contro Stefano Pioli la deve smettere, se a qualcuno non gli piace il sistema tattico di mister Stefano Pioli o ha dei dissapori con Stefano Pioli, oggi li deve togliere e deve giocare per i tifosi, per la maglia, per la gloria, ma come ho detto all'inizio per noi tifosi, voi giocatori dovete giocare per noi tifosi che vi sosteniamo sempre. Oggi il Milan dovrebbe scendere in campo con una formazione che se viene confermata a me va bene, quindi non mi incazzo con Stefano Pioli se le cose dovessero andare male per la formazione, anche se c'è ancora un dubbio che cambierebbe di molto la mia valutazione, perché il Milan dovrebbe scendere con Magic Mike in porta, Teo Hernandez, Tomori e Chav, perché ci sono rimasti solo loro due visto che chi era ancora indisponibile, Calabria, Pulisic, i tre a centro campo, Reinders, Loftucig, Musa, se giochiamo così mi sta bene, se al posto di Musa giocherà Krunic non mi sta bene. Per me oggi è vero dobbiamo adattarne uno a fare il regista, però i tre giocatori più forti sono Musa, Loftucig, Reinders. Krunic non c'entra un cazzo con questo Milan. Leao e Giroud. Raga, la sapete come la penso? Che per me il Milan deve cambiare, dare una svolta e giocare con Okafor di punta. Però va bene anche Giroud, quindi se decide di mettere Giroud va bene anche Giroud. Conta solo vincere, il resto per me sono solo chiacchiere da bar. Stasera conta solo vincere. Sempre forza mina, raga, iscrivetevi al canale e senza paura stasera, senza paura.